Ciao, volevo ringraziarvi per essere venuti a visitarci al CosmoProv di Bologna, ci ha fatto molto piacere conoscervi, sapere di più su di voi e spero che voi avete anche avuto la possibilità di conoscerci meglio anche i nostri prodotti. Speriamo di vedervi la prossima volta qui al CosmoProv di Bologna, l'anno prossimo. Nel frattempo vi invitiamo sul nostro sito internet www.alba1913.com. Ci vediamo, ciao!